siamo ancora qua e già siamo ancora qua allora vi ringrazio per gli ultimi due video che sono andati davvero bene sono due video opposti il primo è la mia reazione a caldo a caldissimo alle dimissioni di agnelli il secondo è uscito invece questa mattina intorno alle 7 ed è una reazione più a freddo e con una raccolta di informazioni che vi spiega per filo e per assegno che cosa sta accadendo all'interno del mondo juve quindi se non avete visto nello specifico il secondo video perché il primo ormai è già invecchiato male invece il secondo è ancora di assoluta ed estrema attualità vi invito a andarvelo a vedere ve lo lascio comunque qui sopra nelle schede potete cliccare oppure andate sul canale direttamente andate a vedere tutto quello che sta accadendo però ci sono ancora delle novità lato juventus e lato nuova ricostruzione della juventus voglio però prima di tutto ribadire un concetto che ho già espresso nel video di cui vi parlavo poco fa e cioè in questo momento la juve non rischia niente dal punto di vista sportivo perché si sta facendo un ragionamento su altri profili ok vi spiego comunque nel dettaglio tutto nell'altro video parlare oggi di retrocessioni della juventus fare parallelismi con il chievo quando le situazioni sono completamente differenti non ha nessun senso è assoluta mala fede chi parla della juventus che l'anno prossimo giocherà in serie b giocherà in serie c ragazzi ora non avete capito niente della questione o non avete ascoltato non volete capire o state semplicemente dicendo cose a caso non c'entra niente la juventus a livello sportivo in questo momento non è coinvolta non è coinvolta ok cerchiamo di andare un po più nello specifico perché è uscita una nuova nota di exor in cui è stato annunciato il nuovo futuro presidente della juventus adesso vi faccio vedere anche la nota di exor ce l'abbiamo qui amsterdam 29 novembre 2022 gialluca ferrero indicato come nuovo presidente della juventus dato che ci sarà il cda il 18 di gennaio come appunto scritto qui per legge circa 25 giorni prima deve essere annunciata una lista di candidati che verrà presentata come appunto futuro presidente della juventus e exor ha indicato gialluca ferrero ok qui qui sotto abbiamo il una sorta di curriculum di quello che ha fatto ferrero all'interno della sua vita possiamo vedere che ha ricoperto diversi ruoli è comunque vicepresidente del cda della banca del piemonte componente del consiglio di amministrazione d'italia indipendente in gruppo e ancora una volta possiamo leggere jedi gruppo editoriale spa dove l'avevamo già letta noi questa cosa di jedi l'avevamo nominato ieri sera questo gruppo editoriale qualcuno mi ha anche ripreso perché non lo conoscevo chiedo scusa ma ci posso fare poco non lo conoscevo davvero scanavino scanavino che era stato già annunciato come direttore generale della juventus nella giornata ieri sera quindi abbiamo due persone che vanno in questa direzione due persone con una formazione di un certo tipo e questo va a ricollegarsi ancora un po al discorso che facevo ieri e che oggi possiamo cercare di arricchire in un certo modo quindi torno nella grafica che mi piace di più in cui posso essere centrato e continuiamo a parlarne perché ieri vi parlavo di una juventus che sarà creata su tutti i punti di vista da dei veri e propri tecnici perché in questo momento c'è una situazione da risolvere con la consob e quindi la juventus non si sta più preoccupando del fattore sportivo in questo momento perché c'è una priorità e come dicevo ieri non è un annunciare le colpe non è un riconoscere le colpe è una dimissione difensiva che va a tutelare a salvaguardare gli uomini stessi quindi la persona di andrea agnelli la persona di pavel nedved e tutti quelli che si sono dimessi proprio perché ci sono state delle cose che in questo momento la consob non ritiene idonee non ritiene adeguate ai termini della legge che non è legge sportiva perché juventus non ha alterato il bilancio per potersi scrivere al campionato e quindi non ci possono essere in questo momento a meno che non venga fuori della roba che ad oggi è ignota un riconoscimento una penalizzazione al punto di vista sportivo con una retrocessione no no e no poi magari verrà fuori ma io non posso prevedere il futuro come non lo può prevedere nessuno ad oggi si parla di altre cose qualcuno mi ha detto anche ma come fai a dire che si sono dimessi per quello e quella ragazzi c'è una nota come abbiamo visto la nota di exor c'è una nota sul sito juventus lunghissima scritta in italiano che spiega per filo e per segno che cosa è accaduto il perché è uscita ieri sera dopo che ho pubblicato il mio video quindi non potevo saperlo nel primo video nel secondo sì infatti tanti concetti sono espressi lì in questo terzo invece stiamo ricalcando un po l'orma che abbiamo detto questa mattina e quindi una juventus formata da tecnici perché la juventus in questo momento ha bisogno di attrezzarsi per una sorta di battaglia contro la consob una battaglia che la juventus può vincere o che può perdere ma che non avrà ripercussioni in questo momento dal punto di vista sportivo però l'area sportiva appunto in mano a cherubini e ad allegri e vediamo se ci saranno delle conferme delle smentite riguardo al fatto che allegri potrebbe pensare di fare un passo indietro la juve ad oggi queste cose sono ancora totalmente chiacchiere ad oggi abbiamo una sola certezza e cioè il cda si è dimesso per qualcosa legato a prisma per qualcosa legato a consob abbiamo un nuovo cda che si sta costruendo in questo momento con appunto ferrero a capo e scaravino come direttore generale e abbiamo una juventus che a livello sportivo rimarrà in mano a cherubini per il momento e poi vedremo io però voglio fare una mia piccola previsione fino adesso abbiamo parlato di cose che potrebbero essere di cose che sono effettivamente ci sono delle note le abbiamo lette le abbiamo comprese abbiamo tutto ben chiaro il quadro la situazione non si vencerebbe per il momento ok concentriamoci su queste cose qui però è vero che ci sta ricoprirsi di tecnici perché sono quelli che poi dovranno intervenire nel concreto nella battaglia però non dobbiamo mai dimenticarci che la juventus è un club sportivo è un club di calcio stiamo parlando di sport e quindi credo che sia necessario avere delle figure all'interno di juventus che possano rappresentare la parte sportiva e la parte emotiva di quella che è la juventus tradotto in precedenza avevamo presidente vicepresidente un agnelli quindi per definizione juventus e pavel nedved che è stato juventus in questo momento abbiamo ferrero che è messo a capo della juventus come presidente della juventus come chairman della juventus che non è un uomo di campo non è un uomo juventus assolutamente no e quindi secondo me mia umile opinione c'è necessità di associare a queste figure anche delle personalità forti lato juventus ieri sera del piero ne ha parlato all'interno di un programma in cui dialogava in inglese con altri interlocutori e ha detto io sono sempre regato vediamo cosa accadrà ha spiegato un po la situazione anche lui e poi ha concluso dicendo che lui la casa torino l'ha tenuta e quindi un giorno chissà non si sa mai che era un po anche il collegamento successivo a il video che avevo fatto l'anno scorso dicendovi ragazzi il fatto che del piero sia tornato alla juventus un po mi puzza e non dico che sarà presidente o se sarà presidente sarà presidente onorario però un'altra carica potrebbe benissimo andarla a ricoprire alessandro del piero e allora io in questo momento l'illazione la faccio perché capisco i tecnici capisco queste personalità legate al mondo della finanza legata al mondo delle banche legate al bilancio ma dall'altra parte non dobbiamo dimenticare che si sta parlando di una squadra di calcio e chi è chi se non il simbolo juventus per eccellenza il giocatore con più presenza il giocatore con più gol il giocatore con una storia infinita d'amore incredibile scritta pagine allucinanti un cavaliere che non abbandona mai la sua signora chi se non alessandro del piero chi se non lui come o vicepresidente della juventus o comunque come personalità all'interno di juventus perché ribadisco ci sono persone che dovranno operare e ci sono persone che invece dovranno apparire come sempre come in tutto lo stesso ned vedera quella figura intermezza tra dirigenza il campo e dato che si è liberata la carica vacante di vicepresidente della juventus perché non alessandro del piero davvero dato che non dovrebbe avere un ruolo attivo nella gestione della squadra a livello presidenziale perché ci sarebbe qualcun altro al suo posto e avrebbe semplicemente quel termine quella tra quel traghetto tra squadra e dirigenza servono anche queste persone qui all'interno di una dirigenza soprattutto perché non dobbiamo perdere l'identità juventus potrebbero anche essere altri nomi se parlato anche di buffon se parlato anche di chiellini io buffon lo vedo un po meno adatto rispetto a chiellini del piero che mi sembrano molto più adatti invece ad essere dirigenti juve lo stesso chiellini poi ha due lauree in economia la seconda mi pare conseguita con 110 elode quindi sicuramente è anche un po più preparato dal punto di vista dirigenziale e hanno anche un ottimo inglese perché comunque chiellini l'ha studiato lo parla molto bene invece alessandro del piero ha vissuto in america quindi in questi anni è riuscito ad acquisire delle cose delle potenzialità che una volta la calciatore invece non poteva vantare quindi sicuramente anche un passo avanti dato che juventus è un brand internazionale al giorno d'oggi se oggi potessi anzi ve lo gioco virtualmente qua insieme a voi mi gioco un euro virtuale sul fatto che chiellini del piero verranno almeno presi in considerazione come persone da inserire all'interno dell'organigramma della nuova juve perché sì c'è necessità di andare una certa direzione ma senza mai dimenticarsi che comunque stiamo parlando di calcio sono tutti uomini di fiducia exor che stanno andando a popolare la juventus e come potrebbe essere altrimenti dato che la situazione comunque si delicata potenzialmente delicata potenzialmente pericolosa e quindi c'è bisogno di affidarsi a chissà dove mettere le mani in certe posizioni comunque ribadisco io da tifoso della juventus in questo momento sono abbastanza tranquillo perché non ci sono non c'è niente dal punto di vista sportivo veramente non c'è niente quindi preoccuparsi oggi mi sembra un po così un po a caso semplicemente farsi trascinare da quelle che sono le fake news le male lingue e le cattiverie degli anti juventini per quanto riguarda invece la juve che verrà sono molto curioso proprio perché appunto si sta costruendo una nuova dirigenza un nuovo cda ma non possono essere soltanto persone legate al mondo della finanza spero che possiate essere d'accordo con me